Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, è sick parade, è sick parade, allora, 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 innanzitutto buona pasquetta a tutti quanti, oggi è il giorno di pasquetta, quindi buona pasquetta a tutti quanti, non poteva però mancare il sick parade ogni giorno alle ore 12, cascasse il mondo, esce questo video nel quale andiamo ad aggiornarci su quello che è successo nel mondo del calcio e che di nuovo c'è da dire, no? Ma un po' come per quanto riguarda il giornale che vi compravate la mattina, ecco adesso ci sono io, che in una ventina di minuti vi racconto tutto ciò che sta succedendo nel mondo del calcio. C'è anche un nome di calcio mercato molto interessante per l'Inter, di cui andremo a parlare tra un pochette, lo leggete qua sotto, ma prima di iniziare a parlare di ogni squadra e quindi ogni notizia del giorno rilevante, vi ricordo che siamo a 69.020 iscritti, vi invito ad arrivare a 69.060 iscritti entro stasera se volete il doppio appuntamento, se no ci vediamo domani. Con un nuovissimo video, tante notizie e tanti aggiornamenti a partire dalla notizia numero 10. Alla notizia numero 10 ci sono due news sostanzialmente del calcio estero, attenzione perché sono due news molto interessanti, una viene dalla Premier League e una viene dalla Spagna, dalla Liga. Quella che viene dalla Premier League deriva dal Chelsea, come sapete il Chelsea non sta facendo bene, anzi per niente proprio, è a metà classifica e probabilmente non prenderà nessuna posizione europea da qui alla fine. Ecco, il problema qual è? Il problema è che il Chelsea per rispettare i paletti imposti dal fair play finanziario ed evitare quindi una grossa penalità deve cercare una soluzione, deve vendere almeno due big per evitare che l'anno prossimo parta con una penalizzazione importante. Quindi un po' come era successo lo scorso anno col Barcellona che aveva avuto delle problematiche non indifferenti, quest'anno tocca al Chelsea avere il rischio di trovarsi con il culo bruciato. E il culo bruciato in questo momento potrebbe portare il Chelsea a cedere due calciatori, Connor Gallagher e Risi James, due calciatori che secondo i Blues qualora venissero venduti sul mercato frutterebbero ai londinesi 100 milioni di euro, quelli per rientrare nei paletti del fair play finanziario. Attenzione perché il prossimo mercato del Chelsea invece che essere un mercato all'acquisto potrebbe essere un mercato alla cessione. Non si tratta di acquisto né di cessione, si tratta di paletti del fair play come si era trattato del Barcellona di cui parliamo allo stesso punto, un Barcellona che starebbe cercando in tutto e per tutto di convincere Xavi a rimanere sulla panchina. Io pensavo che era il Barcellona a non volere Xavi più e invece pare che il Barca stia facendo di tutto per trattenerlo ma l'ex centrocampista sembra irremovibile nella propria scelta. Marca parla di questo e fa proprio riferimento al fatto che Xavi ha deciso di andare via quindi il Barcellona trova un nuovo allenatore però fa notizia il fatto che il Barcellona stia insistendo per cercare di convincerlo. Chi non insiste lo troviamo alla posizione numero 9 ed è l'Inter. L'Inter non insiste affatto con Arnautovic. Infatti come avevo già detto a più riprese l'Inter per la prossima stagione vorrebbe rifarsi il look dopo Lautaro e dopo Turam. Taremi è stato già preso, si è stato preso anche Zielinski ma quello è un discorso di centrocampo. Si andrà verso un rinnovamento dell'attacco e dopo Sanchez che probabilmente quasi sicuramente andrà via l'Inter sta cercando di cedere quindi si va verso l'addio anche per Arnautovic. Questa è la notizia. L'Inter aveva pagato 10 milioni di euro Arnautovic però quest'anno non è andata bene. Il giocatore ci ha avuto tanti infortuni quando ci è stato. In realtà delle volte ha anche fatto benino. Devo ammettere che tante volte ha aiutato l'Inter ad arrivare a dei risultati anche più alti rispetto a quelli che avrebbe potuto raggiungere in tal caso senza una punta di finalizzazione tascabile come Arnautovic. Però devo dire che l'Inter sta pensando di cederlo. Si va verso l'addio. L'obiettivo qual è? Quello di andare su un Raspadori ad esempio anche se poi per il discorso a Cerbi il Napoli non venderà mai. A Cerbi con Gesù se il Napoli non venderà mai Raspadori all'Inter. Però vi ho fatto il nome di Raspadori per farvi un nome. Si è parlato anche di Immobile. Immobile mi sembra una cosa molto più simile ad Arnautovic. Certo sicuramente più di valore. Non fai 200 gol in serie a caso. Però secondo me c'è un motivo in cui bisognerebbe cambiare. Questo è il motivo. Io personalmente opterei per il cambio. Quindi andrei su un attaccante un po' più seconda punta. Un po' più Raspadori. Come prima punta esperta ce l'avresti già a Taremi. Fatto sta comunque che l'Inter di tenere in questo momento Arnautovic non ha voglia. Io non lo so se lo terrei. Vi dico la verità. Sarei molto in dubbio. Fatemi sapere il vostro punto di vista sotto qui nei commenti. Da nerazzurro a nerazzurro. L'Atalanta ha un doppio obiettivo. Un doppio obiettivo per quanto riguarda le fasce. Infatti attenzione perché i bergamaschi stanno valutando le ipotesi per la prossima stagione. Ora c'è da partire da un presupposto importante. Gasperini ha sempre, sempre, sempre fondato tutte le sue fortune sugli esterni di centrocampo. Quindi pensare che vada a non avere inizio della stagione senza avere degli esterni che lo convincano appieno è pura follia. E in questo momento sta valutando quanto Zappacosta e Dateburr potrebbero dare. Perché un po' per gli infortuni, un po' per problematiche varie, in questo momento non è che Gasp sia poi così tanto convinto dai due che vi ho appena citato. E l'idea sarebbe quella appunto di cambiarli entrambi. Ora, cambiarli entrambi come? Cambiarli entrambi con chi? Ecco, escono a questo punto due nomi. Il primo è un giocatore che secondo me se va all'Atalanta diventa super titolare della nazionale. Già ci va molto vicino al Torino, figuriamoci all'Atalanta. Ed è Raul Bellanova che è un giocatore fantastico. Io mi sto incastrando di continuo, qua mi sta dando un fastidio. Se vuoi girare un po' sto coso, ecco. È un giocatore fantastico, è un esterno destro. Ed è un esterno destro che farebbe tanto comodo all'Atalanta. L'unico vero problema potrebbe essere il fatto che il Torino lo valuta una cifra abbastanza importante. Cioè i Granata hanno detto lo vendiamo solo e soltanto se arrivano 20 milioni di euro. 20 milioni di euro, direbbe Maccio Capatonda, so soldi. Quindi bisognerebbe capire se l'Atalanta sarebbe disposta a dare quella cifra. Però io fossi l'Atalanta quella cifra la darei. Cioè per me 20 milioni per Bellanova, per quello che fa Bellanova, per quanto potrebbe dare Bellanova, ce può non sta. Questo è il mio punto di vista. E poi c'è un'altra alternativa, un giocatore che costa sicuramente meno, che ti prenderesti con un paio di spicci, che ti garantirebbe comunque della qualità, ovvero Festi e Busele. E Busele è un calciatore irlandese, è giovanissimo. È un classe 2002. Ed è un giocatore che sarebbe un Bellanova un po' più low cost. Quindi poi bisognerà capire anche l'Atalanta in quale direzione voglia andare. Perché vi faccio un esempio. Se cede Zappacosta e basta, o se cede Atebur e basta e decide l'altro di farlo titolare, puoi andare su Ebusele. Se l'Atalanta cede un Zappacosta o un Atebur, ma l'altro, quello che rimane, non lo vede come titolare, devi andare su Bellanova. Ma aggiungo anche un'altra cosa, che da quanto leggo potrebbe anche non essere da escludere. Ovvero che l'Atalanta, qualora arrivassero delle offerte congure, che trovano d'accordo il direttore sportivo dell'Atalanta, potrebbero partire sia Zappacosta che Atebur. Questo porterebbe chiaramente, nel caso, a provare a prendere entrambi. Quindi un'Atalanta che si rifà il look sulla destra, avendo in squadra sia Raul Bellanova del Torino, che Festi e Busele dell'Udinese. Capiremo, capiremo, però quel che è chiaro è che Gasperini, con il suo 3421, 3412, 352, chiamatelo un po' come vi pare, ci ha costruito un progetto e quindi continuerà ad insistere con quel modulo là e con le ali che servono. Questa era la posizione numero 8. Alla posizione numero 7 parliamo invece di una squadra che il piano per il futuro ancora non ce l'ha. Cioè che l'allenatore ancora non l'ha scelto e non avendo scelto ancora l'allenatore, non possiamo effettivamente sapere quale sarà il sistema tattico che andrà a scegliere per la prossima stagione. Perché? Perché stiamo parlando del Napoli. Il Napoli, ragazzi, in questo momento ha un problema. Anche Calzona sembra non essere abbastanza per il Napoli, ma mi sembrava abbastanza chiaro. Non è che stiamo parlando di cose che solamente alcuni possono capire. Il Napoli ha sbagliato tanto, ha sbagliato a prendere Garzia, ha sbagliato a cedere Garzia, ha sbagliato a mandare via Garzia, ha sbagliato a mandare via Mazzarri, ha sbagliato a prendere Calzona, a prendere Mazzarri, ha sbagliato in tutte le scelte che ha fatto. Quindi, dal mio punto di vista, i partenopei l'anno prossimo dovranno partire da una guida che possa essere catalizzante. Ora, ci sono tre nomi per il post Calzona. Il primo nome è quello di Palladino, che è un mister che tutti vogliono e che fa gola a tutti quanti. È chiaro che bisognerà capire quali squadre cambieranno e quali squadre non cambieranno e se Palladino accetterà il progetto tecnico del Napoli. Il secondo nome è quello di Italiano, della Fiorentina. A me piacciono sia Palladino che Italiano e credo che entrambi, con le giuste motivazioni e con le giuste idee, possano aprire un ciclo a Napoli. Mi convince un po' meno il terzo nome, che è quello di Farioli, che è un allenatore molto interessante, ma molto interessante. Però ha ancora tutto da dimostrare, quindi non so se dimostrerebbe abbastanza oppure no, da allenatore del Napoli. Faccio un ultimissimo nome, che in questo caso viene fatto da Sky, ovvero Antonio Conte, che però arriverebbe solo e soltanto con la Champions League. Ma il Napoli per me in Champions League deve fare un miracolo a questo punto per andarci e la vedo veramente, veramente difficile. Chi sta provando ad andare in Champions League alla posizione numero 6 è la Roma, che oggi giocherà una trasferta difficilissima a Lecce. Probabilmente, ve lo antecipo, non farò la live reaction perché è pasquetta, farò solamente il post partita. E la Roma pensa fortemente a come sistemare la squadra già per la prossima stagione, con o senza Champions League. Il nome viene fatto da calciomercato.com, il nuovo nome per la difesa, che a me non fa impazzire, ve lo dico con grande chiarezza, che è quello di Pablo Mari, 30 anni del Monza. Ora, devo dire una cosa. Il Monza gira bene, Pablo Mari fa molto bene, a me piaceva Udine, a me piaceva Monza, è un buon giocatore, fa parte di una difesa quella del Monza che prende veramente pochi pochi gol, e sembra che la Roma abbia già chiesto informazioni sul giocatore al Monza, che in questo momento ha detto che il calciatore vorrebbe non venderlo. È chiara però un'altra cosa. La cosa chiara è che il giocatore ha un contratto in scadenza del 2025, e in questo momento non stanno trattando per rinnovare, quindi il Monza potrebbe anche accettare, per non perderlo a parametro zero, a un anno dalla scadenza del contratto. Ora vi dico come la penso io, in modo piuttosto rapido. Io credo che Pablo Mari sia un buon difensore, e me lo vedo a Roma, al posto di Llorente. Cioè è proprio uno Llorente, Pablo Mari, anzi è uno Llorente che conosce anche più il campionato, no? Cioè quindi mi va bene un trentenne, una cartuccia, uno di quelle seconde linee che comunque quando gioca fa comodo. Va benissimo prendere Pablo Mari, ma per Llorente. Se tu mi tieni Llorente, mi tieni in Dica, mi tieni Mancini, mi prendi Pablo Mari, al posto di Hausen e di Smalling, io non so quanto sia giusto. Io mi auguro che la Roma invece vada a prendere, se devi prendere Pablo Mari, è perché hai capito che non vuoi tenere Llorente. Se invece l'idea è quella di tenere Llorente, con tutto il rispetto del mondo, io invece andrei su un difensore un po' più forte, un buongiorno magari, anche se forse economicamente la Roma, soprattutto se non va in Champions, non può permetterselo, o uno Schurz, o diciamo un giocatore di questo tipo qua, o anche uno Scalvini, no? Che comunque costa 40 milioni, il giocatore ti può garantire, però molto passerebbe dalla Champions League e non credo che la Roma in questo momento possa permettersi un investimento di quel tipo. A meno che non vada in Champions League. E alla quinta posizione parliamo proprio di questo. Infatti, alla quinta posizione parliamo di quante squadre vanno in Champions? Allora, 4 o 5? Ecco, facciamo un breve aggiornamento perché ho letto proprio oggi un articolo riguardante questa cosa qui e ho deciso di inserirvelo. Allora, innanzitutto, noi non abbiamo più squadre in Champions League. L'Inter è uscita con l'Atletico Madrid, la Lazio è uscita con il Bayern Monaco, il Milan era già uscito ai gironi e il Napoli è uscito con il Barcellona. E andremo avanti solo e soltanto mediante le seconde competizioni. Quindi Milan nel Roma e Atalanta in Europa League e la Fiorentina in Conference League. Ora, va detta una cosa, che le altre non sono messe tanto meglio rispetto a noi. Certo, alcune hanno più squadre in Champions League rispetto a noi che non ne abbiamo, chiaramente. Però è vero pure che avere così tante squadre ci permette di, come posso dire, di andare più avanti possibile. Ora, va detta una cosa, se andiamo in questo momento a vedere il ranking, vediamo che le prime due, e sta cosa la voglio sottolineare, vanno a portare la quinta in Champions League. L'Italia è prima con 18.428 punti, la seconda che è la Germania ne ha 16.357, quindi in questo momento abbiamo più di 2.000 punti sulla seconda e circa 2.000 punti anche sulla terza, perché l'Inghilterra ha 16.250, appena una decina, quindi 17 punti in meno della Germania che è seconda. Ora, voglio dire una cosa, è vero che abbiamo tanti punti sulla Germania, però è vero anche che se ci recupera una, ci recuperano due, perché stanno molto attaccate. Quante squadre abbiamo in Europa? 4 ma diventeranno 3, per obbligo. La cosa negativa è che una esce tra Milan e Roma, la cosa positiva è che una va avanti tra Milan e Roma, quindi almeno una l'avremo anche al prossimo turno, però ce ne rimangono 3 su 7 potenziali. Alla Germania ne rimangono 3 su 7, all'Inghilterra 5 su 8, questa mi fa ancora più paura, perché l'Inghilterra ne può portare tante. Alla Francia 3 su 6, a 14.750, Spagna 14.437, 3 su 8. La Repubblica che è sesta ce n'ha 1 su 4, quindi vabbè, Belgio 1 su 4, 1 su 4 per la Turchia, 1 su 6 per il Portogallo, 0 su 5 per l'Olanda. Di fatto le uniche squadre sono le prime 5 con le cui dovremo stare più attenti, però io credo che dobbiamo tifare contro la Germania. Se escono tutte quelle tedesche è fatta, però attenzione perché è quasi fatta. E è quasi fatta la posizione numero 4, anche la Juventus che va in Champions League, però continua a perdere, quindi anche se è quasi fatta la Juve un pochino di strizza, gli è venuta e molto passerà anche dai risultati di Bologna e Roma di questa giornata per capire la qualità e la prospettiva della Juventus in queste ultime giornate. E allora eccolo, eccolo, che andiamo a parlare di una cosa molto molto importante, ovvero la Juventus è su un nuovo giocatore di cui non si era parlato praticamente mai fino a questo momento, ovvero Gomis, Tidiam Gomis, alla sinistra del Caen. Chi è questo tipo? È un calciatore, ancora minorenne, a 17 anni per l'esattezza, è un franco senegalese che ha deciso di non rinnovare con il Caen, è un classe 2006, quindi di prospettiva è assolutamente valido ed è il nuovo nome super interessante per la Juventus. Ora, è chiaro che molto passerà da quello che la Juventus farà in queste ultime partite di campionato, nel senso che se la Juventus va in Champions League, questo è un colpetto che la Juventus fa ad occhi chiusi tanto perché gli piace farlo, tanto perché vuole fare un colpetto. Però dalla parte opposta, se questo colpetto la Juventus si trova affaticata a farlo perché deve pensare a fare un mercato fuori dalla Champions, è tutto un altro paio di maniche. Io ve lo cito questo Gomis perché magari arriva in sordina, magari viene prestato all'Under 23, ma quante volte abbiamo visto, magari vi faccio un esempio, in Under 23 andare a debuttare a un giocatore che poi si prende il mondo. Ecco, io sinceramente mi aspetto questo e ve lo dico con sincerità. Vedremo quello che effettivamente la Juventus andrà a fare perché secondo me questo fa tutta la differenza del mondo. Io credo che questo faccia realmente, realisticamente, tutta la differenza del mondo, anche se poi credo che la Juve in Champions League ci vada. Posizioni numero 3 saliamo sul podio per il Milan. Fofanà. Fofanà apre al Milan. Yousouf Fofanà. Stiamo parlando del centrocampista francese del Monaco che in realtà è un po' un fetichio, è un po' un fetish da parte del Milan che se lo studia, che se lo lavora, che ne è completamente innamorato e che se lo vorrebbe prendere. Ecco, a questo punto ha parlato a Milan News dopo la partita e ha parlato della possibilità di andare al Milan. Chiaramente adesso l'idea, e adesso devo leggere anche il virgolettato, è quello di portare il Monaco in Champions League. Però il fatto che il calciatore non chiuda al Milan, dal mio punto di vista, apre a degli scenari molto interessanti. E credo che tutto sommato questo Fofanà possa essere una pedina valida per il Milan del prossimo anno, anche proprio per il progetto Moneyball che ha in mente il Milan. Vi leggo il virgolettato. Penso che il Milan sia un club davvero enorme. Tutti conoscono il Milan e il suo palmarès. Ma a parte le chiacchiere in Italia, rimango concentrato sulla mia missione. Però, insomma, non chiude. Dice, qual è la mia missione? Quella di portare il Monaco in Champions League, che sarà come una maratona. Da qui a fine stagione, ogni partita è come una finale. Quindi non ci andranno, perché chi dice che ogni partita è come una finale poi non riesce a vincere queste finali. E ne rimangono sette da giocare. Dobbiamo grattare dei punti dove dobbiamo dare tutto ad ogni partita. Quando giochi nel Monaco, sai che la Champions League è l'obiettivo naturale del club. E poi dice, come già detto, il Milan è uno dei più grandi club al mondo con una bacchetta importante. Ma il mio focus attualmente è qualificarmi in Champions League con il Monaco. È chiaro poi che lui debba avere anche un modo abbastanza diplomatico per rispondere a determinate provocazioni. Però dall'altra parte non chiude le porte, anzi le tiene aperte. E questa è una cosa che mi ha incuriosito non poco. Attenzione, perché questo Fofanà ce lo potremmo trovare l'anno prossimo. Lui comunque dice, Milan è un club enorme, ha un palmarès gigantesco. Mi fa piacere che si parli di me. Però resto concentrato su altro. E attenzione, perché alla posizione numero due, il Milan non lavora solo sul centrocampo, ma lavora anche sull'attacco. Infatti, pare, in questo caso secondo... No, non ho scritto la fonte. Credo fosse calciomercato.com, ma non ho scritto la fonte. Che il Milan abbia messo in piedi un budget per il prossimo centravanti. Infatti, attenzione, il Milan perderà Giroud. Addirittura Giroud gli è stato chiesto se andrà via, se è stato chiesto degli Stati Uniti, e lui si è messo a ridere. Quindi, questo ci fa anche capire la situazione in questo momento. Il Milan nel campionato, la bello che è finito, è secondo proprio in CIL, o comunque terzo se dovesse controllare, ma insomma in Champions League in CIL. Adesso l'obiettivo sarà tutto sull'Europa League. Tra le altre, se mannaggia, perché affronterà proprio noi. E allora il Milan andrà su un attaccante. Ora, ci sono diversi nomi per quanto riguardano questo attaccante. E pare che il budget stanziato dai piani alti del Milan sia quello che vada tra i 40 e i 50 milioni di euro. Ora, Giroud dove andrà? Ai Los Angeles FC. E vabbè, e questi ce li siamo levati. Ora, ci sono almeno quattro giocatori che sarebbero, diciamo, alla portata con un budget di 40-50 milioni. Il primo è quello di Jonathan David, che per me va al Napoli. Proprio ve lo dico sinceramente, va al Napoli, secondo me, Jonathan David. Però attenzione, Jonathan David comunque valeva 70 milioni l'anno scorso. Stanno, è successo un macello, quindi con 40-50 te lo porti a casa. Il secondo nome è quello di Ghirassi, che sarebbe anche lui molto valido, che sta segnando con una continuità, aiutatemi a di disarmante. Segna, segna e segna, quindi giocatore clamoroso. Poi c'è il solito pallino, solito fetish, Sesco. Quante volte si parla di Sesco? Quante volte il Milan parla di Sesco? Ecco, anche lui con quel budget lì riusciresti a prenderlo. Il quarto nome, sempre il solito, è quello di Zirk Zee. Ora, se il Milan decine di andare su Zirk Zee, 40 milioni potrebbero non bastare. E' vero che il Milan, anzi che il Bologna, più o meno ha messo quel budget lì per cedere Zirk Zee, perché comunque si parla di una cifra che il Bayern Monaco potrebbe pagare per richiamarlo, quindi il budget potrebbe essere quello, però un'asta potrebbe farlo arrivare anche a 50-55. Quindi il Milan potrebbe metterci dentro una contropartita, che è Selmeker, che in questo momento è appunto al Bologna. E alla posizione numero uno, passiamo dall'altra parte dei navigli per parlare di Inter. Inter, ecco, è ermoso, cioè non ecco che sta arrivando. La gazzetta dello sport, però, conferma l'operazione. L'Inter starebbe pensando, nel caso in cui non riuscisse poi a trovare un accordo per il rinnovo di Acerbi, e non è scontata come cosa che arrivi il rinnovo, perché, insomma, Acerbi, ragazzi, non è una situazione semplice. All'Inter questa sessione non è piaciuta, non dimentichiamoci che all'Inter non frega nulla in questo momento di Acerbi. L'Inter lo scudetto lo ha già praticamente vinto, e Acerbi è un giocatore che serve più alla nazionale che all'Inter, in questo momento, se dobbiamo essere sinceri. Il difensore si libererebbe a parametro zero. Stiamo parlando di chi? Di Mario Ermoso. L'Inter vuole Ermoso, l'ennesimo colpa a parametro zero, nel caso fosse di Marotta. È un giocatore in scadenza con l'Atletico Madrid, e in questo momento non ha alcuna, alcuna intenzione di rinnovare il contratto al calciatore. Cioè, il calciatore non ha alcune intenzione di rinnovare il suo contratto. Che cosa chiede il giocatore? Un quinquennale, a 5 milioni di euro più bonus per ogni stagione. Quindi costerebbe 25 milioni di euro per 5 anni, però non vi nego che metterebbe a posto e non poco la difesa dell'Inter. Ora, l'Inter, immaginatevi una difesa, ok, va via Acerbi, ma immaginatevela con Ermoso, con Darmian, con Bissek, con Pavard, con Bastoni e con Defray. E poi l'Inter ne fa di queste manovre. L'anno prossimo magari c'è Darmian e ne prende un altro. Cioè, è un crescendo, è un po' come la partenza di Skinner che si era messo di mezzo, perfetto è arrivato Pavard. Cioè, l'Inter non ha questi problemi, non ne risente proprio di queste eventuali partenze. C'è un però comunque, di cui parla anche la Gazzetta. Perché? Perché innanzitutto l'Inter sta valutando Ermoso, però c'ha diversi nomi sul piatto. Quindi non è detto che vada solo e soltanto su Ermoso, ma soprattutto Ermoso ha tante offerte. La Juventus, ad esempio, pensa ad Ermoso. L'anno prossimo la Juventus dovrà rinforzarsi in fase difensiva e sicuramente in bianco-nero avrebbe più spazio. Poi, come avevo detto prima, molto passa dal fatto che la Juve va in Champions League o non va in Champions League. Però, alla Juventus secondo me ha più spazio, proprio per quello che è il parco difensori della Juventus. C'è anche il West Ham sul difensore. Il West Ham sarebbe sicuramente un club che gli darebbe più soldi, perché in Premier League pagano di più. Giocherebbe un campionato, probabilmente più di valore, però chiaramente non farebbe la Champions League. E poi ci sono anche delle offerte, qua si tratta solamente di mero denaro, di club sauditi. Che sarebbero particolarmente interessati a provare a prendere il calciatore, riempendolo di soldi. Anche se poi il calcio saudita, da quanto ho letto, sarebbe vivendo un momento non positivo. Che lo porterebbe, per l'appunto, a dover reinvestire all'interno del progetto. Senza dover andare a fare ulteriori spese esose che non farebbero altro che gravare, eventualmente, sul bilancio del paese. Senza ottenere miglioramenti. Di fatto sta che l'idea, la pazza idea dell'Inter, del nuovo nome dietro, è quello di Ermoso. Di Mario Ermoso, dell'Atletico di Madrid. Secondo voi Ermoso andrà all'Inter? Secondo voi l'Inter farebbe bene a darvi a Serbia e prendere Ermoso, pagandolo 5 milioni l'anno per 5 anni? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Eh sì, 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 ecco Parade, ecco Parade. Io vi ringrazio per aver visto questo video, non mi da lasciare tantissimi piace qui sotto. Buocela lalla e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.